Annullare la preapertura alla caccia programmata per il prossimo 1 e 2 settembre anche in considerazione della nuova ondata di caldo prevista per la prossima settimana. La richiesta è inviata alla Regione Abruzzo e del WWF che cita il parere dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente, secondo cui la gravissima siccità di questi mesi e i numerosi incendi stanno mettendo a dura prova la fauna selvatica. Oltre all'annullamento della preapertura, gli ambientalisti chiedono anche di interrompere l'addestramento dei cani, pratica che è stata avviata in Abruzzo il 1 agosto nonostante il parere negativo dell'Istituto. L'ISPRA, nella sua nota, sottolinea proprio come la fauna selvatica sia fortemente stressata con il rischio di effetti negativi sulla dinamica di popolazione di molte specie per una serie di ragioni quali stress fisico, riduzione delle risorse alimentari e degli habitat disponibili. Per questo, sottolinea il WWF, l'Istituto ritiene opportuno sospendere le preaperture all'addestramento cani e, se dovessero perdurare queste condizioni ambientali avverse, modificare anche il resto delle regole della stagione venatoria contenute nei calendari venatori. Il nostro appello alla Regione, afferma il Presidente del WWF Abruzzo, Luciano Di Tizio, è basato sul buonsenso, oltre che su un approccio scientifico rigoroso. Il calendario venatorio varato dalla Regione contiene già numerose criticità che sarebbero censurabili in una stagione normale. In condizioni di grave crisi ambientale, però, tale situazione diviene completamente ed evidentemente inaccettabile. Di Tizio ha infine annunciato che l'Associazione sta lavorando per l'apertura di una vertenza caccia in Abruzzo a tutti i livelli, da quello amministrativo giudiziario a quello comunitario.